Carla, allora dimmi, fai un invito ai nostri amici e ai cittadini in generale per domani che facciamo una giornata dell'onestà. Sì, vi aspettiamo tutti, è una festa molto importante perché è una luce che si apre nella notte dell'onestà. Questo da un napoletano parlare di onestà è meraviglioso, come tu sei modificata geneticamente. Saremo una decina, lo sai. Sì, io mamma, te e tu. Vi do appuntamento domani verso le quattro, quattro e mezza, Piazza del Popolo, ci saranno cantanti, comici, buffoni, qualsiasi genere di persona, però sarà una bella e grande manifestazione. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo. 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 Vi aspettiamo.